Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. Whites e siamo qui oggi con il secondo episodio della nostra mini serie per così dire cosa devono rubarsi i giochi di calcio l'uno con l'altro quindi abbiamo fatto cosa FIFA deve rubare a PES e cosa PES deve rubare a FIFA perché nessuno dei due giochi è perfetto quindi rubarsi un po' le cose vicende potrebbe aiutare a migliorare e spingersi anche a ottenere nuove vette e soddisfare noi utenti che ovviamente con due giochi perfetti saremmo più contenti anche se probabilmente non sarà possibile perché non esiste il gioco perfetto in ogni caso cosa PES deve rubare a FIFA? tante piccole cose inizierei con i movimenti i movimenti che sul PES stanno migliorando non ci sono più i famigerati binari ma non sono ancora perfetti soprattutto le animazioni di quando ci giriamo spalle alla porta per puntare il portiere non sono ancora perfette, non mi convincono molto quindi dovrebbero essere leggermente più fluide quindi sicuramente su questo aspetto si può migliorare ancora non parlerei più di tanto delle licenze perché mi sembra abbastanza banale dire che PES dovrebbe rubare a FIFA la BPL ma essendo partner con Electronic Arts non ha molto senso dirlo ma mi concentrerai ancora un attimo sul gameplay parlando del dribbling il dribbling su PES è buono ma si potrebbe fare di più quindi magari non dico farlo come FIFA che è troppo facile ma cercare un mix come magari era fino a FIFA 10-11 dove si riuscivi a saltare un uomo ma non riuscivi a saltarne più di tanto su PES è un po' difficile anche perché le skill sono abbastanza complicate da fare sì, sono padroneggiabili abbastanza facilmente se facciamo il tutorial però non sono poi così efficaci richiedono una combinazione di tasti un pochino troppo lunga perché chiedono anche la combinazione tra due levette quindi non sono proprio immediate durante la partita certo, hanno fatto una bella cosa di non mettere le skill così forte per non dare troppo vantaggio agli attaccanti però secondo me almeno per i giocatori top quindi Neymar devono padroneggiare perché Neymar se ti fa una skill ti salta di netto quindi devono un po' ribilanciare il dribbling e le skill su PES perché non mi convincono molto non mi convincono neanche tantissimo quelli di FIFA perché FIFA è estremo da un lato e su PES è estremo dall'altro dovrebbero trovare un po' una via di mezzo tutti e due i titoli parlando dei My Club qua c'è un argomento particolare il mercato su PES sappiamo cosa vuol dire avere un mercato aperto per così dire quindi con i venditori di crediti i bug del mercato i giocatori che costano troppo eccetera eccetera su PES c'è l'alternativa che non è c'è proprio il mercato perché su My Club il mercato non c'è voi dovete prendere gli agenti che vi possano portare o un top player o una pippa assurda tipo io ad esempio ho trovato con il bonus del day one Philip Lam perché dovevo potevo ottenere un giocatore della squadra UEFA dell'anno ho trovato un altro trequartista con più di 80 quindi quelli buoni però ho trovato anche Bertolacci sono una sorta di pacchetto però con dentro un solo giocatore quindi va molto a fortuna non mi piace neanche questa soluzione perché non vi permette alla fine di creare un vero e proprio team che volete voi perché dipendete sempre un po' dal fattore culo quindi non mi convince neanche tanto così secondo me disognerebbe tornare a un mercato gestito dall'intelligenza artificiale quindi con i prezzi decisi a tavolino in modo da magari dare qualche penalità se vuoi prendere tutti i vari Ronaldo Messi eccetera eccetera in una volta quindi magari costa di più il contratto a rinnovarlo a loro hanno meno contratti eccetera eccetera comunque costano parecchi soldi in cui magari un giocatore se ne può permettere uno barra due e non undici fenomeni però forse un mercato della CPU sarebbe più intelligente in modo da magari uno vuole farsi il Milan per esempio e si può fare il Milan qui con la scusa che devi aprire questi per così dire pacchetti con gli agenti non è proprio immediato quindi questa è un'altra cosa che su PES non mi piace tantissimo altre modalità che si potrebbero rubare a FIFA è il Pro Club che c'è sì la possibilità di organizzare amichevoli fino in 22 però non c'è questa sorta di appartenenza a un club perché sono solo amichevoli non ci sono competizioni eccetera eccetera quindi sul comparto online PES dovrebbe rubare molto a FIFA anche quel leggero lag che si è avvertito nella prima settimana adesso sta andando via via a risolversi secondo me su FIFA non c'è perché solitamente i server di elettrani cards se ne può dire tanto magari in ultime team ma in stagioni sono sempre abbastanza stabili non c'è mai stato particolari problemi di lag almeno a mio parere quindi su PES il comparto online è ancora un pochino indietro quindi deve migliorarlo ancora un po' quindi tante cose che si possono rubare a questo FIFA perché FIFA 15 ha tanti problemi però ha tante cose positive le abbiamo elencate in questo video ditemi un po' voi cosa ne pensate noi ci vedremo presto ciao a tutti